Alta pressione livellata ancora su di noi, indice di bel tempo. Livellata vuol dire che è intensa sufficientemente per proteggerci del grosso dei sistemi perturbati, ma non così intensa per espingere eventuali attacchi di aria instabile. Quello che è successo è che succederà sempre in modo più attenuato. Comunque il tempo, ripeto, si preannuncia a fine settimana all'insegna del tempo stabile, del soleone, il periodo è tipico e fa fede proprio al periodo anche il tempo nella pratica. Un bel tempo che durerà anche tutta la prossima, almeno la prossima settimana. Più in dettaglio domani sabato c'è l'imprevalenza sereno, nel pomeriggio qualche infiltrazione potrebbe causare della nuvolosità maggiore e localmente qualche fenomeno di stabilità, soprattutto ridosso dei rilievi. Per domenica c'è l'imprevalenza sereno, venti deboli, naturalmente un po' di brezza lungo le coste, un po' di brezza salutare e le temperature, ecco, temperature per domani ancora rimaste molte 30 gradi. Quindi poi l'infiltrazione, proprio che si verificherà il sabato, farà abbassare le temperature, le massime che si porteranno un po' al di sotto o all'incirca 30 gradi. Quindi tutto sommato temperature accettabili. Le minimi vanno dai 16, 18, 19 gradi. L'altra di arica è previsto quasi calma.